Gonfiamo i pallincini Comunque Lo sto facendo perché Non ho un cazzo da fare E poi perché Ups però non si può dire In video E poi Mamma mia sembra che Ha incendiato qualcuno E poi perché voglio vedere i gatti Come cosa fanno E comunque Oggi festeggio Il compleanno per modo di dire Sono già 29 anni No dai Fai cadere Adesso andiamo a mangiare fuori Perché abbiamo deciso Di andare fuori a mangiare Però dai cinesi E E ovviamente Ho convinto i miei A divinire anche loro Perché di solito In settimana non ci vediamo Tanto meno Non mi festeggio mai Però Spero una volta Ho detto Facciamo qualcosa di diverso Io mi diverto così Con poco No perché ogni tanto Adesso c'è quello che fa casino E niente Comunque ovviamente dura poco Questo video Perché era solo Vedere Cosa mi ha preso E poi vi faccio vedere i gatti Come si divertono alcuni Pagliancini Tanto per Comunque niente Vi faccio vedere Quello che faccio Basta E' una Una cosa semplice Una cosa così Intanto Ovviamente Non è che In settimana poi E' molto difficile Vesteggiare Però Non ci posso fare niente Dopo il lavoro Sono arrivata tardi Interrotta Perché mi chiamo Sempre al telefono Comunque niente Ah vi faccio vedere i pasticcini Che ne abbiamo presi pochi Perché tanto Appunto Avevamo deciso di uscire E allora Ho detto Prendere pochi Tanto per mettere la candelina E E basta Adesso Ho fatto i palloncini Tanto per Ridere con i gatti Che è il primo compleanno Che passiamo Insieme Con i gatti E E niente Per cui Vabbè Adesso tra poco usciamo E E niente Comunque vi faccio vedere Aspettate Questi giorni i pasticcini Questo qua va bene Ma che Abbiamo messo Abbiamo messo Le candeline Che avete visto E basta Adesso è troppo fuori Quindi Le mangiamo Sì Si aprimo Ma c'era anche la candela Madonna Adesso va a fuoco tutto E la musica non c'è Adesso fai fuoco tutto Non c'è la musica Sei scaricata Da un bel po' Ammora Mettilo dritto Adesso mi da fuoco Mi ha rovinato tutti i pasticcini Ma fai schifo Io voglio mettere anche questi Dici che riesco Cosa? Cosa di Devi accenderle Qua che girava Adesso si può scoprire Sì ma dovevi farlo prima Aia Sembra lontani però Belludino Mi ha rovinato che E poi Mi ha rovinato che Mi ha rovinato Allora Mi ha rovinato E poi Mi ha rovinato Mi ha rovinato Di Allora... 146 euro potrebbero essere soli simili se tutte vedono le risposte sbagliate attraverso le riduzioni di risposta che darò prima della domanda e in 350 secondi se no scendiamo a 100 secondi e poi a 30 si accende per stanzare e che congelerebbe le migliaia di gubermasti che lei decide di congelare. frecluda rifine in non try uom c'è io non li ho ordinati apposta con il dito Giorci There was once a day, that I would pray for you I'd go and misbehave, just so you'd notice too Seeking looks up and down, from across the room Dam what a hell of a view I feel good You look great I like you I can't wait